Musica Eccoci qua, benvenuti alla prima puntata di Una finestra sul mondo. Io mi presento, mi chiamo Gabriele Brida e sono il conduttore di questa nuova rubrica di Obiettivo News. Di che cosa parleremo in questa rubrica? Beh, di un po' di tutto, di argomenti di stretta attualità, faremo degli approfondimenti, delle interviste. E oggi per cominciare vogliamo parlare di un argomento che a noi tutti interessa, ovvero le vacanze. Beh, noi tutti desideriamo andare in vacanza dopo mesi e mesi di chiusure, di restrizioni e quindi vogliamo capire gli italiani quando andranno in vacanza, come, dove. E allora abbiamo preso questi studi di un'indagine realizzata da Demoscopica in collaborazione con l'Università del Sagno che ci dice appunto che un italiano su due quest'anno andrà in vacanza. La maggior parte andrà in vacanza in Italia, infatti parliamo dell'86,8%, mentre all'estero andranno soltanto il 13,2%. Quindi questo significa che all'estero c'è ancora paura per spostarsi, eccetera. Le mete preferite rimangono la Puglia, la Toscana e la Sicilia e nei mesi, i mesi saranno appunto luglio e agosto, quindi mesi insomma dove noi tutti andiamo in vacanza la maggior parte, insomma. La durata media della vacanza sarà di 7 o 8 giorni e molti hanno deciso di andare al mare, parliamo del 68,9%. Altri andanno in città d'arte, il 13,2% e in montagna, infine, il 12,4%. La maggior parte delle persone andrà in vacanza con la propria famiglia, quindi si privilegia appunto la famiglia rispetto magari a gruppi di amici, eccetera. E sempre per la questione legata al Covid, molti scelgono le case in affitto, piuttosto che andare a prendere una stanza in hotel. Sempre dovuto alle restrizioni Covid e alla paura del contagio, molti preferiscono andare con la propria auto, privilegiando appunto la propria automobile rispetto a un aereo oppure un treno. E purtroppo bisogna dire però che anche il 46% degli italiani quest'anno rinuncerà alle vacanze a causa appunto della pandemia e della paura del contagio e anche purtroppo ci sono dei problemi economici che non permettono di andare in vacanza. Bene, adesso però vogliamo capire se tutti questi dati che vi abbiamo esposto trovano un riscontro nelle persone, nella gente comune. Allora noi siamo andati al mercato qui di Riva Rolo Canavese e abbiamo intervistato un po' di persone. Vediamo cosa ci hanno detto. Do la linea al nostro inviato Gabriele Brida, che poi sarei io, ma dettagli. Quest'anno andrò in vacanza? No, non ho deciso, ma se andrò faccio una vacanza fai da te. Sì? Per portare finalmente i bambini fuori dall'ambiente canavesano? Non so ancora, perché lavorerò. Ma sì, sì, abbiamo la nostra amata Calabria, quindi... Non credo, forse qualche gita vicino, ma non proprio in vacanza. No, dopo due mesi di chiusura, quest'anno dobbiamo recuperare almeno il perduto, diciamo. Quindi niente vacanza e lavoreremo. Non lo so, dove vedere? Dove? Vicino a Rimini. Penso verso lago, montagna, queste zone qua, un po' più... niente mare, diciamo. Quando e per quanto tempo? Agosto. Eh sì, perché le ferie le abbiamo in agosto, le due centrali e quindi... Settimana. Otto giorni. Eh, 15 giorni almeno ce li facciamo, dai. Un paio di settimane scaglionate durante l'estate. Luglio. Una settimana, una settimana circa, perché il lavoro permette solo questo. E dal 15 di agosto fino alla fine di agosto? Prenderà una stanza in hotel o una casa in affitto? Una stanza in hotel, perché farò ogni giorno un posto diverso. Abbiamo una stanza in hotel, dove mi sono informata e seguono tutte le normative per il Covid, per cui siamo sicuri anche da quel punto di vista. Con quale mezzo di trasporto? Prendo la macchina e dove ho voglia mi fermo. L'automobile. E viaggiamo come nucleo familiare, quindi... La macchina. E perché poi ci possiamo spostare. Ma di solito viaggiamo con la nostra auto. È mezzo più sicuro, poi di questi tempi preferiamo... Penso in macchina, sì sì, con la macchina. Così per comodità, perché siamo una famiglia numerosa e preferiamo spostarci con l'autovettura. Bene, e allora abbiamo capito che abbiamo intervistato nove persone, di cui cinque andranno in vacanza. Altre purtroppo si dedicheranno solamente a magari le gite sporadiche o comunque non andranno in vacanza. E tutti andranno in vacanza con la propria famiglia, quindi quello che dicevamo prima è vero. E tutti in Italia, quindi la meta preferita rimane l'Italia e andranno tra il mese di luglio e di agosto e tutti utilizzeranno la propria auto. Quindi vedete che insomma anche nel piccolo gruppo di persone che abbiamo intervistato questi dati trovano un riscontro. Bene, la prima puntata di Una finestra sul mondo termina qui. Vi saluto e vi do appuntamento alla prossima settimana. Grazie, ciao. Grazie.